12 anni, 24 allenatori, io sono là 24 ore al giorno, 24 ore al giorno sono là io, tutti i giorni cazzo, sognatevi cazzo, ma come dove siamo cazzo, cosa è diventato il calcio, una giungla cazzo, cosa vi divertite a scrivere cosa dopo, cosa ridete che, cosa ridete cazzo, con voi bisogna dire bugie e fare i ruffiani, come quei tifosi, io non lo sono cazzo, perché sono serio cazzo, vado a lavorare con serietà, finita qua, cazzo, parole, parole di che cazzo, pensi che giochi a calcio, parole, ma fatemi un piacere, dai su, cazzo, fate calmi tutti cazzo, qua si fanno le cose seriamente cazzo, la coscienza ce l'ho a posto, cazzo, fatela finita cazzo, fatela finita, e domande dai cazzo, sempre, ringraziate mister Varidoianis, ringraziatelo cazzo, e aiutatelo mister Varidoianis, cazzo, cosa contesta, che pubblico, cosa vuoi contestare, cazzo, dopo se se ne va vedremo dopo cosa succede, cazzo, su, figa, su.